Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione! Oggi vedremo la torta di mele, frangipane e confettura di albicocche. Quindi abbiamo la nostra frolla, la nostra confettura, adesso mettiamo dentro il frangipane. Così la gelatinizziamo, si dice, perfetto, ecco qua perfetta, ancora un po', e la nostra torta di mele perfetta. Ora cosa facciamo? Ci mettiamo un piccolo decorino, che trovate la lezione comunque nel corso, un piccolo decorino di cioccolato bianco. Il mio timbro di cioccolato, ma c'è la lezione, voi fate il vostro, uno spuntone di cioccolato bianco o di burro morbido in pomata, e attacchiamo il nostro timbro. Eccola qui! Bellissima! Una delle mie preferite. Quindi, torta di mele, pasta frolla, confettura di albicocca, un frangipane alle mandorle profumato alla vaniglia e limone, le mele e un piccolo decorino di cioccolato. Una torta apparentemente banale, ma in verità molto molto buona. Quindi la lezione è terminata e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!